Ciao a tutti, supera la paura dell'abbandono e seduce. Diciamo che la paura dell'abbandono, cioè la paura di essere abbandonati, la paura che una persona possa lasciarci, ci inibisce fondamentalmente nella seduzione, nella capacità di conquistare, di far innamorare definitivamente questa persona, di far sì che possa perdere la testa per noi, perché anche nell'ambito di una relazione, sia essa nelle fasi iniziali, sia essa nelle fasi, diciamo, già conclamate, questa paura di essere abbandonati ci fa mettere in atto dei comportamenti che sono esattamente il contrario dei comportamenti seduttivi, cioè sarà il bacio della morte della seduzione, sarà il canto del cigno della seduzione. Cosa significa? Significa che se noi temiamo l'abbandono diventeremo morbosi, gelosi verso questa persona, cercheremo tutti i modi per essere in contatto con questa persona, cercheremo in tutti i modi di mantenere una situazione in cui siamo sempre in apprezzione, avremo uno stato di apprezzione costante, uno stato di apprezzione continua, il timore, la paura, e questo ci farà appunto mettere in atto dei comportamenti in cui chiederemo, faremo, ci esporremo, diremo ti amo, ti voglio bene, ti desidero, non posso stare senza di te, mi manchi, tutte queste cose che sono il canto del cigno della seduzione, entreremo in una situazione in cui non avremo possibilità di mettere in atto i giusti comportamenti e quindi otterremo paradossalmente il risultato che non vorremmo ottenere, cioè ottimizzeremo le possibilità che quella persona ci lasci e che quella persona ci abbandoni. Ma esistono delle tecniche per superare la paura dell'abbandono, la paura di essere lasciati, sono delle tecniche che sono intanto comportamentali, perché se capisci che riesci a cambiare il tuo comportamento e ottieni alcuni risultati, sicuramente riesci a elaborare, diciamo, a capire, perché la comprensione è la base per esercitare il libero arbitrio. Se non eserciti il libero arbitrio, non puoi, cioè se non comprendi non puoi esercitare il libero arbitrio. E poi ci sono delle tecniche emotive, diventare padroni delle proprie emozioni. Parlerò di queste strategie, di queste tecniche, questo venerdì 7 dicembre a Torino, 2018, chiariamolando, alle 20.45 in corso 30.13 all'Educatore della Providenza. Comunque, per partecipare trovi le info nel box e il riferimento è il 333 15 11 703. Quindi ti aspetto a Torino venerdì 7 dicembre per superare, per imparare a sedurre, diciamo, superando anche la paura dell'abbandono, perché, ripeto, se c'hai quella, puoi imparare le tecniche di sto mondo, ma diventa difficile applicarle, perché è come un tarlo che ti rode dentro. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al canale, attivando la campanella, così potrai partecipare alle live e ricevere risposte alle tue domande. Inoltre potrai chattare con persone nuove, conoscere persone nuove, insomma. Va bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!